Solo per comunicarvi che nella 250esima puntata della seconda edizione della mia transizione Noto come un pesce, ho ricantato uno dei miei brani intitolato Piangere per Giorgettina, ovviamente, come al solito, per aggiornarvi meglio. Con questo è tutto, signori e signori, vi ricordo che la seconda serie non è finita qua, ma proseguirà fino all'estate, probabile fino alla fine di luglio. Auguro a tutti quanti voi un buon proseguimento con la seconda serie. Io spero che finora mi abbiate seguito, mi state seguendo e che continuerete a seguirmi come al solito. Se qualcuno non mi dovesse seguire, peggio per lui o lei. E sarà cattivo o cattiva? Se le persone sono cattive, e concludo, sono fatti loro. Alla prossima!